Ciao, sono Mary, Mary Zelenkova, e oggi vorrei parlarti di un argomento molto importante. Spesso durante i trattamenti in istituto mi chiedete, Mary, ma cosa sono questo collagene e questa elastina? Con questo video vorrei spiegarti meglio di cosa si tratta. Il collagene e l'elastina mi piace visualizzarli come delle molle. Delle molle posizionate perpendicolare rispetto alla nostra pelle. E chiaramente con il passare del tempo questa molla inizia a schiacciarsi e ad inclinarsi. Ecco perché soprattutto nella zona bassa del nostro viso, con il passare del tempo, si crea questa specie di scivolamento del tessuto che si trova soprattutto nella zona tra le rughe naso labiali e il mento. Durante i trattamenti in istituto il nostro obiettivo è proprio di dare turgore a queste molle per farle ritornare e ridare loro una nuova, anzi direi, originaria verticalità per rendere il tessuto del viso di nuovo turgido, teso e ridare all'ovale comunque il turgore che aveva in età più giovane. Come sempre io ti ringrazio per aver guardato questo video e ti lascio con la mia solita frase La bellezza è una scelta, la tua! Ciao!